Il consigliere Abbatello ci nutriva dubbi sul suo operato che stasera poteva non esserci qui, invece lei è qui. Buonasera, è un dato di fatto che sono presente qui stasera. Forse i dubbi erano nutriti dal fatto che io come qualche altro consigliere avevamo sollevato qualche perplessità ma non sull'iniziativa ma sull'efficienza e l'efficacia di questa iniziativa di questa sera perché probabilmente non si raggiungevano le 13 firme con la partecipazione del PD. Ma questa amministrazione deve andare a casa? Allora nel momento in cui sarà la maggioranza più uno dei consiglieri a determinarlo l'amministrazione terminerà il suo operato. Sì ma io facevo una domanda specifica, secondo lei ha lavorato bene, ha lavorato male? Ci sono molti elementi e molti punti sui quali bisogna portare dei correttivi e migliorare l'azione amministrativa. Che potrebbe anche voi in seguito farla desistere insomma da firmare se dovessero... Stasera io sono qui.